buongiorno a tutti da michele lenotti trovo qui nel bosco del prisi sopra la famosa arzo delle giornate di arzo video che vi invito a vedere se non ne avete ancora avuto occasione e si trova all'interno del mio canale volevo cercare funghi con i miei bambini ma poi ho trovato questo esemplare e vi chiedo di aiutarci nei commenti sotto per capire chi sia veramente un biacco un colubro chiunque sia non ha l'aria amichevole lo registro anche per motivi didattici in modo che qualche professore di scienze possa aiutarci a scuola con i ragazzi vi mando un saluto e se volete potete registrarvi qui sotto a destra ciao iscriviti al canale